Resta interdetto alle auto il cimitero Angeli. Erano soltanto dieci giorni in cui i mezzi non sarebbero potuti passare dalle strade del cimitero storico, permesso solo per i bus. Adesso il divieto pare che si protrarrà, infatti ci sono altre tombe pericolanti che attendono di essere ristrutturate. Rispetto a quando previsto per i lavori, il tempo si raddoppierà perché i problemi statici pare siano notevoli. Sono tre i lotti sui quali i tecnici comunali lavoreranno per un totale di 300 tombe che non saranno visitabili perché i loculi sono transennati. La deroga alla chiusura al transito solo per i cittadini muniti di pass con permesso speciale per i diversamente abili. Non si conoscono ancora i tempi di effettuazione di lavori.